Buongiorno Rafa, ben trovato, buongiorno a tutti. Domani il Napoli gioca, eccomi qua, sono qua, buongiorno. Domani il Napoli gioca un'amichevole, l'ultima di questo precampionato contro il Girona che tu conosci bene. Ci presenti un po' la partita che l'impegno può rappresentare per il Napoli e poi un attaccante come Dovbic che cosa rappresenta, può rappresentare per il calcio italiano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un giocatore che è rapido, veloce, sape anche giocare molto bene di spalda e il gioco aereo è abbastanza forte. Per quanto riguarda Topvic è un attaccante molto forte, rapido, sa giocare molto bene di spalda e anche nel gioco aereo è forte.